Io mi chiamo Walter Parson, sono biologo, di formazione sono fisiologo e lavoro nel settore della genetica forense ormai da 25 anni. Ho iniziato la mia carriera in un momento in cui CSI non esisteva e quindi il lavoro svolto dai biologi in ambito forense era abbastanza sconosciuto. Io sono stato uno dei primissimi a utilizzare il DNA nei casi giudiziari in Austria, ma già dall'inizio, proprio sin dai primi giorni sono stato davvero entusiasto di questo lavoro perché ci dà al biologo l'opportunità di applicare la scienza ad un ambito che è davvero importante per la nostra società, per il nostro ordinamento giuridico, per il nostro sistema giudiziario e per il nostro benessere. Quindi gli sviluppi degli ultimi 25 anni sono davvero incredibili nel ambito della genetica forense perché è in corso una rivoluzione tecnologica straordinaria che fissa nuovi standard, anche forse nuovi limiti a ciò che facciamo nella nostra disciplina. Se penso ai primissimi giorni in cui abbiamo iniziato a lavorare con il DNA per la scena del reato, all'epoca avevamo bisogno di tracce molto visibili, per esempio ematiche, per avere sufficiente quantità di DNA che potesse essere utilizzato in ambito forense. e nel tempo trascorso invece adesso, oggigiorno, possiamo analizzare campioni che non riusciamo neanche a vedere ad occhio nudo perché sono così piccoli e che però contengono ad oggi il DNA sufficiente per effettuare i test. Anche delle conquiste dal punto di vista tecnico ci hanno aiutato anche ad aumentare il numero di informazioni che noi ricaviamo dai campioni. I marcatori per esempio che utilizzavamo all'inizio erano abbastanza discriminatori, abbastanza efficienti, però le piattaforme tecnologiche non ci consentivano di indagarli ulteriormente e di farci dire di più. Invece oggi con le nuove tecnologie si va verso appunto il sequenzamento della prossima generazione e abbiamo tantissimi marker che possiamo analizzare e proprio la singola traccia è la chiave in questo processo perché dobbiamo produrre della tecnologia che sia in grado di determinare il codice genetico con campioni piccolissime, quindi con quantità piccolissime di DNA e questo è una grande sfida, molto interessante e affascinante perché è difficile da fare e non bisogna dimenticare che i risultati prodotti poi devono essere applicabili e applicati e utilizzati in tribunale, in un ambito molto delicato. È davvero divertente ed è una grande sfida. Personalmente mi interesso di tipizzazione di DNA mitocondriale, è una tradizione che risale ai miei inizi, appunto gli inizi del mio lavoro nella genetica forensi, sono interessato al genoma mitocondriale perché è utile per determinare il DNA in campioni che altrimenti non ci darebbero dei risultati perché appunto il DNA mitocondriale è presente con copie maggiori rispetto al resto e quindi anche poiché viene ereditato per via materna possiamo ottenere una idea dell'origine felogenetica del punto tipo mitocondriale, quindi ci può dire qualcosa dell'area geografica da cui viene quel particolare ceppo e quindi... e queste informazioni sono molto importanti nell'ambito forense. L'ereditarietà per via materna è una sorta di dogma, non ci sono prove, ma ci sono molti che cercano di provare il contrario e naturalmente è affascinante cercare di distruggere un dogma perché appunto provare il contrario di questo dogma è qualcosa di speciale. La mia opinione personale sull'ereditarietà per via materna è che se si ereditasse anche tramite il padre, noi scienziati forensi saremmo molto contenti perché aumenterebbe il potere di discriminazione dei marcatori, però credo che ad oggi possiamo ritenere con quasi certezza che è comunque ereditato per via materna. Qualcuni cercano di interpretare gli esperimenti in maniera diversa, cioè in maniera che si possa pensare che esiste questa ereditarietà per via paterna. Un recente studio appena pubblicato suggerisce che appunto ci possa essere la possibilità di questa ereditarietà per via materna e si studiano pazienti con malattie mitocondriali. Quindi è interessante vedere come gli scienziati cercano di spingere ai limiti il sistema, quindi cercando di trovare le prove dell'ereditarietà per via paterna, mentre le probabilità che ciò sia vero sono bassissime. La ragione è molto semplice. pochissimi mitocondri che possono entrare in un ovulo, quindi a fecondarlo, sono molti di meno dei mitocondri che sono presenti nell'ovulo. Quindi anche se la facessero ad entrare, anche se non ci fossero meccanismi che distruggono i mitocondri paterni, semplicemente su base statistica, se si considera quanti i mitocondri sono nell'ovulo e quanti nello sperma, ebbene anche lì si vede che le probabilità sono molto basse. Quindi non ho prove, però ho molte difficoltà nel credere che ciò sia vero. Spero che questo argomento continuerà ad accompagnarmi per tutto il resto della mia vita professionale e sarei contento però se qualcuno riuscisse a sconfessarmi.